La vita non di rado ci mette alla prova causando sofferenza e smarrimento, ma è proprio in questi momenti che dobbiamo volgere lo sguardo su Gesù Crocifisso che soffre per noi e con noi come prova certa che Dio non ci abbandona. All'udienza a giubilare Papa Francesco si è soffermato sul tema della misericordia e della redenzione, una parola quest'ultima poco usata eppure fondamentale perché indica la più radicale liberazione che il Signore poteva compiere per tutta l'umanità e per l'intera creazione. L'amore di Dio è sconfinato, per questo non bisogna dimenticare che pur nelle angustie e nelle persecuzioni siamo sempre liberati dalla mano misericordiosa di Dio che ci solleva a sé e ci conduce a una vita nuova. Sembra che l'uomo di oggi non ami più pensare di essere liberato e salvato da un intervento di Dio. L'uomo di oggi si illude, infatti, della propria libertà come forza per ottenere tutto. Si vanta di questo anche? Ma in realtà non è così. Quante illusioni vengono vendute sotto il pretesto della libertà? E quante nuove schiavitù si creano ai nostri giorni in nome di una falsa libertà? Tanti, tanti schiavi. Io faccio questo perché voglio farlo, io prendo la droga perché mi piace, sono libero e io faccio quell'altro. Sono schiavi, diventano schiavi in nome della libertà. Tutti noi abbiamo visto persone del genere che alla fine finiscono per terra. Abbiamo bisogno che Dio ci liberi da ogni forma di indifferenza, di egoismo e di autosufficienza. Nel saluto in lingua italiana il Pontefice ha rivotto un pensiero grato e riconoscente al Servizio Nazionale della Protezione Civile che ha annullato la propria partecipazione all'udienza giubilare per continuare la preziosa opera di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto scorso.